Ciao a tutti! Conclusa la seduta di martedì sulle principali piazze europee ed è stata una seduta per il Fuzzimib sorprendente in un mercato che riesce ancora a stupire giorno dopo giorno e stupisce anche il sottoscritto che aveva già dato un target dei 34.000 per piazza affari ma sinceramente non pensavo che potessimo registrare questa forza e soprattutto nella giornata di oggi dove facciamo praticamente tutto da soli, non ci sono notizie macro uscite che possano impattare così tanto sui listini. Piazze europee contrastate, il DAX sotto la parità, Madrid più 0,50% ma Parigi perde praticamente la stessa percentuale, Stati Uniti, il Rosso in particolar modo il Nasdaq perde all'incirca l'1,60% appesantito dai tech. Insomma, tante cose che non facevano, almeno per quanto mi riguarda, pensare che in una giornata del genere potesse essere così positiva per Milano che supera di slancio quota 33.000 punti e anche quota 33.100 e già mette una manina in area 33.200, oggi ci siamo andati vicino e ci siamo fermati a 33.184 punti, per cui che dire, questo è il mercato oggi e come ho detto nella panoramica di domenica io non ricordo a memoria un mercato del genere, per cui noi dobbiamo semplicemente registrare questi movimenti e imparare, insomma mettiamo qualcosa ancora nel nostro bagaglio di cultura personale sui mercati. Oggi i volumi tra l'altro nemmeno risicati, perché se andiamo a vedere gli scambi totali rispetto a ieri, ad esempio sul momento, ieri abbiamo fatto 648 milioni, oggi siamo a 740 milioni, non sono volumi il record, ma non sono nemmeno volumi da retail che così comprano a casaccio, si spingono ancora determinati titoli per far salire l'indice, questo l'ho già detto nei precedenti video, ma comunque sì, la performance c'è tutta, a cominciare dalle utilities che oggi sono il settore, e questo però già l'avevamo scritto questa mattina per gli abbonati al canale Realtime e Premium, che oggi il settore che sarebbe potuto così rimbalzare, visto che ieri sera è successo la stessa cosa negli Stati Uniti, sarebbe stato proprio quello delle utilities. Questi sono i titoli che hanno performato meglio oggi a Piazza Affari, e infatti nelle prime posizioni troviamo A2A, troviamo Erg, Era, Enel, Snam, Terna, Italgas, praticamente tutte le utilities, qualche outsider tipo Tenaris che fa bene nonostante il petrolio non stia brillando, ancora una volta, e troviamo anche in Tiesa San Paolo che supera anche lei il dislancio quota 3 euro, chiude a 3.055 e si porta vicino a quel target che avevamo dato in area 3.078 come primo target rialzista. Oltre a questo vediamo anche il grafico di Piazza Affari, perché è interessante vedere anche quello che è successo nella seduta, non tanto per la candela finale, che è bella, è forte, non c'è nulla da dire, ma anche per come è arrivata, perché si chiude a 33.146 punti, vediamo un grafico orario, questa mattina siamo partiti anche sotto la parità a Piazza Affari, noi eravamo ancora qui in area 32.800 punti, abbiamo fatto un minimo a 32.832 punti, la fascia che per due giorni diciamo è stata supportiva, questa è quella dei 32.800 e poi in area 32.940 c'era una piccola resistenza, oggi ha ceduto come niente, di lì siamo passati, abbiamo passato i 33.000 e vi faccio notare come niente, senza nemmeno un pullback, così è successo anche per quota 33.100, ci siamo spinti poi fino a quota 33.184 e si chiude ancora forte vicino ai massimi, quindi seduta davvero incredibile. e questo è il grafico del DAX, il DAX questa mattina ha infilato un minimo inferiore all'ultima seduta e così era successo il giorno prima, poi si è ripreso un po', ma comunque sia non ha fatto la stessa performance di Piazza Affari e come vedete anche le altre piazze europee da Madrid a Parigi, Londra, nessuno ha brillato in particolar modo. Stati Uniti, Dow Jones meno 0,53%, SP500 meno 0,78%, Nasdaq 100 meno 1,46%, Nasdaq meno 1,55%. Oggi per quanto riguarda Piazza Affari dovremmo guardare diciamo tutti i titoli per capire un po' quello che è stata la seduta di oggi, non li guarderemo tutti ma possiamo farci un'idea, così anche in ordine alfabetico, di quanto il mercato stia salendo e continua a sorprendere, guardate un titolo come Azimut che sale ininterrottamente da ottobre senza mai guardarsi indietro, senza mai fare una sorta di pullback che adesso è arrivato praticamente sui massimi assoluti, avrebbe ancora una possibilità magari di fare anche i 27,75%, ma se non succede come è successo sempre praticamente in questa fascia di prezzo che arriva una candela così secca, rossa, che poi chiama la discesa definitiva, segnali in questo momento Azimut di discesa non ne dà nonostante sia non tirata, qualcosa di più. Dopodiché vediamo le utilities, A2A ha tenuto quota 62,63 per cui il supporto è ok, ha chiudito sui massimi e per come la vedo io potrebbe anche allungare anche in area 71,77, 1,78. Lo stesso dicasi per Enel, la congestione sui minimi in area 5,85, 5,83, questi i minimi assoluti, è stata rotta poi a rialzo e ha chiuso anche sopra 6 euro per cui anche qui volendo, se dobbiamo giustificare il target di 34.000, Enel è un titolo che ci deve essere al rialzo se vogliamo arrivare a 34.000, altrimenti non so con quale titolo ci arriviamo, tenuto conto di quanto hanno già corso i bancari. Step successivi 6,10, 6,25 fino alla copertura del gap, se dovesse andare bene. La stessa Eni si allontana dalla fascia critica dei 14,20 e sale fino ai 14,50. Erg ritrova quota 26 euro di poco ma comunque sia è rimbalzata. Intesa San Paolo, ve l'ho detto, c'è un target a 3,07,8 che ormai è lì vicino e gli step successivi sarebbero 3,12,50, 3,20, 3,25, 3,30, i soliti step proprio storici di intesa. Snam, anche qui supporto granitico attenuto e venuta su. Monitorare Tenaris, sorbettente anche lei, quota 17 euro, ormai è ritornata lì, per cui potrebbe puntare adesso a quota 17,50, gap lasciato aperto, ma questo sarebbe immaginabile che non venisse ricoperto nel breve periodo. e Unicredit, di cui vi ho detto prima, cambiata la raccomandazione, Morgan Stanley lo dice questa mattina, il titolo va appena sotto quota 30 e poi trova un nuovo massimo di periodo. Sorprendente, ma a questo punto potrebbe, nella logica del bisogno di arrivare a 34.000, Spindigersi è anche in area 32,70, per dirne una. Stellantis ha fatto benissimo, siamo tiratissimi, però il titolo sale. 24,73, qui siamo su massimi storici, quindi andiamo a braccio. Facciamo 25? Facciamo 25. Saipem. Chi l'avrebbe detto una settimana fa, il che saipem sarebbe praticamente arrivato a ridosso dei 2 euro per, ufficialmente, per una buona trimestrale, che per quanto buona sia, e per quanto ci abbia fatto piacere, perché noi eravamo long da R1,40, e abbiamo chiuso oggi la posizione poco sotto quota 1,92, scattato l'ultimo take profit, tanti auguri e che rimara dentro, è ovvio che stia salendo così perché vi sono delle ricoperture di short, qualche fondo ha sbagliato clamorosamente il timing, avevano incrementato prima dell'uscita della temestrale, si stanno ricoprendo, per cui tecnicamente, se ci saranno ancora delle ricoperture così violente, spike al rialzo ne può fare, per cui siamo adesso sorpresi, dal rialzo ha fatto un più 13,31, poi si è fatto un più 8,36, poi ha fatto un più 4,86, oggi ha fatto un altro 3,61, ma nulla ci dice che, secondo me sarebbero dovremmo mettere in conto, anche ulteriori allunghi. È chiaro che nel momento in cui si fermeranno le ricoperture, e il primo dirà, ok, abbiamo la pancia piena, a cascata, per come il titolo è salito, dovremmo mettere in conto delle candele feroci, rosse, e chi sarà dentro, o sarà dentro, insomma, dovrà stare molto attento, io penso. Altri titoli, e questa volta fuori dal Fuzzimib, succede anche qui una cosa strana, non vi ho parlato di Brunello Cucinelli, se dovessimo guardare i multipli di Brunello Cucinelli, ci sarebbe da dire, ma come ha fatto arrivare a quota 112, e penso si potrà spingere anche ai 120. E la stessa Ferrari, per cui si stanno già rimangiando un po' così i target, e via dicendo, adesso arrivano anche delle bocciature, e la vedo in area 323, sì, si è allontanata dal massimo quasi 400 euro, ma tutto sommato, non è che stia perdendo tantissimo, se recupera i 382, può essere anche che vada a ricoprire il gap, ad esempio, e poi chissà. Dicevo, fuori dal listino principale, poi ci sono dei titoli, che invece avrebbero fatto bene, ma veramente bene, con delle buone primi estali tipo BS, e il mercato non è le premie, anche oggi BS scende, e perde il 2,24%, e bisogna stare attenti, che non perda l'area degli 11,60, e ancora più clamorosa, secondo me, la performance di Piaggio, un sell-off incredibile, trimestrale da record, forse la migliore di sempre, e ieri il titolo ha perso il 5,86, oggi lascia sul terreno anche il 3,11, con volumi veramente in aumento, poco da dire, per cui da una parte si sale, si sale tanto, non c'è il minimo acceduto di volezza, appena fuori dal Fuzzimib, succede di tutto, e succede magari quello che in teoria, ma poi il mercato lo sappiamo com'è, in teoria non dovrebbe succedere. Un'occhiatina a quello che succede negli Stati Uniti, per quanto riguarda i singoli titoli, attenzione a Tesla, perché dopo aver rotto questa congestione, è andata a ricoprirsi praticamente il gap, che era ancora aperto, anzi non l'ha fatto per una manciata di dollari, ma adesso gravita in area 180 dollari, e spero proprio che non vada a rompere questo minimo in area 175, altrimenti si farebbe dura. Magari per questo titolo ci farò un'analisi dettagliata, per gli abbonati al canale YouTube, come mi è stato richiesto oggi. E poi Apple, per la serie era già tutto scritto, era già tutto detto, ma il mercato è ignorato completamente. Nell'analisi che avevo fatto, dicevo che poteva si rimbalzare a quota 180, ricoprire il gap, ma avrei messo comunque in conto gli step successivi, area 177, fino a praticamente dove adesso, 170, anzi anche area 165. I motivi della caduta degli dèi e la sanzione che ha dato l'Unione Europea ad Apple, ma era già nell'aria, tant'è vero che ne avevo parlato anche nella mia analisi. Così, all'improvviso, il mercato se ne è accorto, e guardate che due sedute da paura che sta facendo, per cui attenzione anche in questo caso. Diciamo che per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, e al prossimo video.